Oggi ho una pensione giusta che mi consente di arrivare alla fine del mese. Finalmente i treni arrivano in orario, anche con la neve. Al contrario dei miei genitori, io ho avuto la possibilità di vivere tutta la vita nel mio paese d'origine. Ci sono tantissimi spazi verdi in più dove poter portare a giocare i miei figli. Il patto di stabilità oggi è solo un brutto incubo. Con l'asilo nido aziendale di figli ne ho fatti tre e ho continuato a lavorare. Finalmente ho meno scartoffie da compilare, meno tazze da pagare e posso dedicare il mio tempo al mio lavoro. Oggi ho sempre un posto letto garantito se ho bisogno di cure. Il pizzo oggi è solo il nome di un merletto e mio figlio studia la mafia solo sui libri di scuola. Se tratteniamo il 75% delle nostre tasse sul nostro territorio, questo sogno può diventare realtà. Con la Lega si può. Alle prossime elezioni politiche vota Lega Nord. Grazie a tutti.